Un anno di attività e di progetti all'Istituto Marichi Uri di Napoli. A conclusione dei progetti messi in campo dagli alunni e dai docenti, è stato festeggiato il lavoro svolto durante i mesi scolastici. In scena un'opera teatrale riadattata e recitata dai ragazzi, che per una mattinata sono diventati piccoli attori della leggenda di Colapesce. Entusiasta la preside Maria Filippone, sia per la rappresentazione teatrale, sia per l'impegno profuso dall'Istituto Scolastico nel corso dell'anno. Grande festa oggi al Marichi Uri per celebrare un anno di attività di questo istituto. Grande festa, festa conclusiva, l'abbiamo intitolata uno dei nostri temi centrali, che è quello della legalità, che è una parola vasta, grande, che raccoglie veramente e sintetizza tutta la nostra strategia educativa. Cominciamo con una rappresentazione teatrale, che è l'esito di un laboratorio PON. I ragazzi avranno l'opportunità di assistere ad una vera e propria prova di attori. Il laboratorio è stato condotto da Antonio Javazzo, devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, e sono certa che oggi questa rappresentazione sarà sicuramente un successo. Questo è stato un anno di sinergia, come lo ricordavate durante la presentazione? Sì, un anno di sinergia. La sinergia è un metodo di lavoro a cui le scuole sono abituate a praticare, perché le scuole da sole non sono in grado di poter realizzare tutto. Anzi, le scuole devono essere loro il polo dal quale lanciare ponti, collegamenti, con gli enti territoriali, con gli enti locali, con le realtà della cultura, anche della politica del territorio. Il nostro, quello campano, quello napoletano, di questo territorio della città, è un territorio che chiaramente vive una complessità, vive grossi problemi. I ragazzi devono sentire però che loro, nonostante i problemi, le speranze le devono avere. E noi nella scuola abbiamo questo dovere, dare a loro delle speranze. Certamente se loro vedono che di lavorare, di operare, di vivere in una scuola che li accompagna, che si preoccupa di loro e che per loro crea collegamenti, appunto, sinergici, con tutte le realtà possibili che ci possono dare un aiuto, loro si sentono più forti. I ragazzi proprio di questo hanno bisogno, di fiducia e di speranze.